Ciao a tutti, una delle domande più ricorrenti che ciclicamente saltano fuori, specialmente all'inizio stagione, è quella che non arrivo a 50 metri con l'arco nudo, come posso fare, come riesco, qual è il trucco? Benissimo, io stamattina, siamo il 2 marzo, per la prima volta sono andato al campo e ho tirato a 50 metri, adopero le frecce per il 3D, poi vediamo che frecce sono, le vediamo poi all'ultimo, comunque una tecnica normalissima, pollice sotto il mento, l'ancoraggio che ho è abbastanza basso, però un ancoraggio normale, niente di che, certo, fa molto la testa, deve essere posizionata senza il mento basso, il mento deve essere parlato di terreno, la tecnica alla fine conta per carità, conta anche il materiale per arrivare a 50 metri, i risultati migliori io li ho ottenuti a dire la verità con i flettenti sinusoid, quelli che costruisci dai vidi vicini, ora ho abbastato le libre, aspetto che magari me ne mandi uno, un paio da 34, per il momento uso i Win & Win MXT, io preferisco, sono ottimi flettenti, costano una paccata di soldi, pazienza, però sono veramente performanti, come i sinusoidi altronde, che costano meno, oltretutto, e qui io preferisco i GW che sono quelli con l'anima in legno anziché in schiuma, io ho sempre preferito flettenti con l'anima in legno, ecco qua tiro a 50 metri, ho tirato una decina di frecce, non avevo neanche fatto bene o male lo string, a dire la verità, difatti la prima freccia è andata alta e la seconda freccia è andata bassa, però poi alla fine la rosata si è regolata e tutto sommato sono soddisfatto, anzi, a dire la verità sono anche un po' sorpreso, che già da subito ho iniziato, ho iniziato con queste rosate, soprattutto con queste frecce, perché come vediamo, poi le frecce, non uso, ecco sentiamo, comunque lo string è qua eh, 50 metri, adesso andiamo a vederla eh, lo string è qua così, quindi diciamo due cuciture, avanzo, questo è 50 metri, 50 metri e qua così, adesso andiamo a vederla. Sì addirittura come abbiamo visto lo string lo faccio a circa 2 mm dal punto d'incocco, quindi non sono proprio perfettamente sottococca ma circa 2 mm, quindi avanzo, avanzo ancora qualcosa. Ecco possiamo contare i passi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, neve, dieci, indici, adesso conto i passi perché mi hanno anche detto che le misure non sono mai giuste a quelle che tira, veramente pochi e se pensiamo che il mio passo è 70 centimetri devo arrivare a 70 72 e 73 passi. 72 per 0,7 è 50 metri per cominciare ancora siamo all'inizio siamo all'inizio questa è la mia configurazione di freccia valette naturali da tre pollici 35 libri 35 libri e uso vap 900 vap 900 con 70 grani in punta pesano 215 grani 50 metri e va là per i puristi non sarà il massimo però la rosata diciamo c'è da mettere da mettere a punto è da mettere appunto il tiro le frecce si piantano si piantano anche dritte ecco come le vediamo arrivare a 50 metri sono perfettamente a diritto io direi per iniziare andiamo bene poi vediamo il prossimo ciao a tutti